La vita non va sempre nel verso giusto. A volte, per un motivo o per un altro, ci sembra di non poter cambiare le cose. E se bastasse un caffè per ricominciare? La Vazza, grazie alla sua fondazione con il progetto Cup of Learning, offre la possibilità a centinaia di ragazzi in Italia e nel mondo di diventare professionisti del caffè. Come stanno facendo anche Andrea, Maria, Luca e tanti altri.